Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo, migliora il tempo sul nostro territorio. Ci attende infatti una domenica asciutta e anche piuttosto soleggiata e mite. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica del 20 febbraio evidenzia che appunto ci attende una splendida giornata caratterizzata dal bel tempo. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, non si escludono degli addensamenti sui monti ma senza ulteriori conseguenze. Temperature gradevoli, come detto, minime tra 2 e 6 gradi, massime comprese invece tra gli 11 e i 13 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà più stabile con tanto sole ovunque, qualche annuvolamento ci sarà, ma innocuo. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sui 12 e 13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato, solo con qualche nube in più, sui settori più settentrionali, ma non darà luogo a piogge. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 12-14 gradi all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antena 3. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.